Sono Pier Giorgio Ceccarelli, nella vita faccio anche l'agricoltore, oggi rispondo alla domanda posso potare il rosmarino quando è in fiore? La risposta è assolutamente no ragazzi, adesso vi spiego anche il perché. Il rosmarino quando è in fiore sta dedicando tutte le energie a fare la fioritura, a fare quindi piccoli semi e non è possibile andarla a potare perché tutte le energie che lui ha distribuito sui piccoli rami le andremo ad eliminare. E allora se la pianta in fiore cosa posso fare? Aspettare che sfiorisce. Allora il rosmarino ha un lungo periodo di fioritura e oltre che a lungo periodo di fioritura in base alla località climatica dove noi lo abbiamo coltivato può fiorire in un periodo piuttosto che in un altro. Ad esempio se siamo sul litorale vicino al mare come in questo caso il rosmarino può iniziare a fiorire da ottobre fino a febbraio, ecco in Sicilia a ottobre già lo troviamo fiorito, quando possiamo potarlo? Quando ha sfiorito? Andremo a potarlo ad esempio a marzo. Nell'entroterra invece quando siamo magari anche in collina fino a 7-800 metri lui tarderà a fiorire, aspetta il caldo, aspetta la primavera, fiorirà magari a marzo, aprile, maggio, giugno, a volte anche a luglio. Quindi cerchiamo di rispettare almeno questo periodo, non stressiamo troppo la pianta, la pianta si potrebbe anche potare nel momento di riposo vegetativo estivo, luglio, agosto, però vi dico sempre nel periodo estivo fate attenzione a potare il rosmarino perché a questi due periodi febbraio marzo agosto. Nel periodo estivo quando voi togliete un pezzo di ramo del rosmarino voi avete levato una porzione che ombreggiava la parte della vegetazione sottostante, quella non era abituata al sole come se noi e noi ci leviamo la maglietta al mare il primo giorno che ci andiamo ci scottiamo, la stessa cosa accade al rosmarino. Ecco che i rami sottostanti che non erano abituati al sole si scottano, si bruciano, si seccano, addirittura troviamo piante che si spogliano per metà perché i piccoli aghi non abituati al sole si bruciano e cadranno, si spoglia, ecco la pianta non è che muore, lì piano piano inizierà di nuovo a fare la vegetazione però avrà davvero uno stress e quindi cerchiamo di evitare questo stress, quindi la miglior potatura del rosmarino è febbraio marzo, ok ragazzi? Io vi saluto così, vi do un abbraccio forte e caloroso a tutti quanti, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!